Buongiorno a tutti quanti, grazie a chi mi ha invitato per essere qui con voi. Mi chiamo Mohamed, vengo dalla costa d'Avorio, sto in Italia in cinque anni. Vi leggo un piccolo pezzo del mio viaggio. L'attraversata del deserto, eravamo 13 persone nel camione e spesso il camione si ferma e spendiamo dopo quando c'è una montagna. L'autista dice, scendete a tutti e cammina per salire la montagna. Sono talmente stanco, le parole ti dissolvano. Non puoi dire tutto, perché non è una cosa facile. Sulla strada, quando? Se due o tre giorni vicino a qualcuno riesci a connesserlo. Ci si può aiutare per l'acqua e da mangiare. Bidone ognuno, ogni giorno può bere una volta. Sulla strada, nessuno villaggio, non è strada. Si evita scita e villaggi perché c'è. perché c'è un po' di guerra, perché spesso i ribelli nel deserto attaccano i militari. La cisa evita una cosa bella. La gente che sta qua per sorvegliarsi sono talmente a Sabah entrando nella Livi. La polizia ti porta in calciera e sono stato cinque mesi in calciera, poi sono sfuggito a Tripoli. Ho trovato un signore che si chiama Umaro, che mi ha aiutato per il lavoro e la bella immagine della mia viaggio. ci siamo persi a Malta, la stanchezza troppa. Ci hanno messo in un campo quando sei talmente piccolo, la gente ti fanno cattiveria. Prima del terzo mese del 2010 sono arrivato a Roma. Distrubare le persone che passano perché tu dormi sulla strada, ma loro ti distrubbano perché fanno rumore. non c'è niente di facile. Tutta la gente passa e ti guardano. Anche questo talmente è chiaro. Noi buoni, noi soldi, noi un fratello, si è soli. La foto ci può partire? Questa immagine qua sono, quando sono arrivato in Italia, ho iniziato a fare un'immagine di 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 un'immagine. La fotografia, dopo, se qualcuno ha qualche domanda da fare, sono a disposizione di vostra. Questa foto qua, quando sono arrivato in Italia, a Roma, sono stato per la strada tre mesi e venti giorni. Questa era la borsa in cui sono arrivato in Italia, con la borsa e la coperta, dove con la cartone era la mia materassa. Infatti, questa foto la chiamo in due modi, l'arrivo e la partenza, che mi presenta l'arrivo d'Italia e la partenza della fotografia. Grazie a tutti e buona giornata. Grazie a tutti.